Bentornati con le consigli e previsioni a cura di Matthew One. Come preannunciato nei giorni scorsi, l'anticiclone africano raggiungerà il suo picco garantendo tempo stabile e soggelleggiato su tutti i settori, da quelli pianeggianti alle aree appenniniche. Le temperature raggiungeranno valori elevati prossimi ai 35-36 gradi, specialmente sulle pianure interne di Puglia e Basilicata, con condizioni di afa durante le ore centrali della giornata. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 14 giugno. Al mattino cielo soleggiato, salve innocue velature. Nelle ore centrali del giorno, cran caldo e condizioni di afa, soprattutto nelle pianure e valli interne, come tavoliere, metapontino, materano, arcoionico e salento. Temperature massime in aumento con valori diffusamente oltre i 35 gradi e picchi di 36-37 gradi su tavoliere e metapontino. Minime molto miti con valori oltre i 20 gradi ovunque. Venti assenti o deboli da sud ovest, ma ripu comossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli, che ci delizia con questo meraviglioso tramonto che illumina con i suoi ultimi bagliuri la città di Lecce. Se volete inviarci la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.